Il settimo minuto ha colpito un palo con Urbano su tiro dalla distanza di esterno desto, poi vedete va Monelli a recuperare palla ma Tormina manda in angolo, l'angolo è battuto da Maiellaro, il colpo di testa di Di Gennaro che termina di poco sulla traversa. Ancora una buona opportunità per il Bari, gran tiro di Di Gennaro e Campanella sulla linea si sostituisce al portiere, poi al 29esimo il gol, Crosti Carrera, lo stacco è perfetto di Scarafoni, il Bari passa in vantaggio, un avvio di ripresa, buona opportunità per il Licata, c'è però il liscio di Campanella da buona posizione. Poi c'è uno show di Monelli, vedete va solo e si fa mandare in angolo il pallone da Bianchi, ancora Monelli, manca la conclusione Urbano, poi Monelli ancora con il piede respinge in angolo il portiere siciliano. Poi la rete al 40esimo da Scarafoni a Maiellaro al centro per Monelli e del settimo gol in campionato dell'attaccante del Bari. A quattro minuti dalla fine espulsione per il centrocampista Delicata Tarantino.